Amici rossoneri, amici amanti del calcio, un saluto da Luca Zed, sono qui per le pagelle, le Zed pagelle. Prima due considerazioni, due parole sulla partita che non mi ha fatto dormire questa notte, che mi ha lasciato un amaro in bocca che non si toglie neanche dopo aver pranzato. Prima di tutto, una partita, una prestazione che non ha mai dato l'idea di un bel gioco, una prestazione che non ha mai dato l'idea di poter far pensare, se non magari dopo il gol di Leo, a un recupero, perché c'è stato un po' sesso palla superiore, ma assolutamente sterile. Quindi direi che l'Inter ha meritato la vittoria, qualcuno si attacca agli errori arbitrali, ma io credo che ci sono stati, ma credo che non hanno influito sul risultato assolutamente. I meriti vanno tutti all'Inter, che ha fatto cinque gol. Da dire che dopo il terzo ovviamente siamo proprio crollati, sia fisicamente che mentalmente, quindi i due gol che sono muti dopo sono abbastanza così, direi fortuiti e abbastanza non da considerare. Perché da considerare c'è proprio la prestazione orribile che c'è stata proprio dall'inizio, lasciando perdere i quattro minuti iniziali, come ha detto Pioli in conferenza stampa, una conferenza stampa ragazzi raccapricciante. Tutto il resto della partita, una partita da dimenticare, una partita che doveva essere la partita del riscatto, perché in ballo c'era tantissimo, c'era la stracittadina, il derby, c'era il primato in classifica, c'era la svolta che dovevamo dare al campionato e anche a questa fila di cinque derby persi, quindi c'era tanto in ballo, ma non siamo stati capaci di fare assolutamente niente di quello che ci si aspettava. Per cui, niente, tanto rammarico, tanta delusione, tanta anche sofferenza fisica, perché non dormendo si soffre anche fisicamente. Quindi questo nostro Milan, con questa prestazione, con questa partita, ci ha veramente distrutti in tutti i sensi. Ho fatto fatica a dare voti, perché, anzi, credo di essere stato anche abbastanza buono nel giudicare i calciatori e Pioli, perché il mio attaccamento a questi colori, a questa maglia, a questa squadra è altissimo, quindi sono stato, credo, anche abbastanza magnanimo nel valutarli. Poi, ovviamente, fatemi sapere voi cosa ne pensate, ma andiamo direttamente ai voti, perché più ne parlo di questa partita, più ne parlo di questa prestazione e più mi viene rabbia, mi viene nervoso, quindi passiamo subito ai voti. Allora, ho messo Meignan cinque e mezzo. Ha fatto un solo intervento degno di nota su Carlos Augusto, poi per il resto, insomma, cinque gol sono abbastanza pesanti, anche se in ogni gol è stato abbastanza incolpevole, però eravamo un po' abituati al miracoli di Meignan, non ce n'è stato neanche mezzo, per cui, secondo me, non una prestazione sufficiente la sua, comunque cinque e mezzo non è un brutto voto per la prestazione che c'è stata ieri. Kier, dunque, Kier gli ho dato cinque. Non un'insufficienza grave, ma un'insufficienza dovuta al fatto che in campo si è vista solo l'esperienza. C'è stato solo quello, mancata la velocità, mancato il guizzo, mancato l'idea, insomma, sono mancate tante cose, e quindi solo un po' di esperienza non basta per contrastare l'Inter o qualsiasi altra squadra. Calabria. Calabria ha dato quattro. Ragazzi, Calabria ha fatto una partita veramente brutta, anche, secondo me, condizionata dalle direttive di Pioli, perché l'ha fatto giocare troppo alto, quasi da mezzala, cioè fa fatica già a fare il suo ruolo, figuriamoci se li facciamo fare la mezzala, e quindi, grazie a questa tattica, chiamiamola così, di gioco, la corsia di destra era sempre sbornita, infatti, in occasione del bellissimo gol di Turam, poteva starci magari un raddoppio sul giocatore che invece non c'era, e il malaugurato Malik Chao se l'ha fatto scappare abbastanza banalmente, e quindi poi è scaturito questo euro-goal, ma in tutta libertà, per cui, diciamo che è stato aiutato anche dai nostri difensori a segnare questo bellissimo gol. Quindi Calabria quattro. Malik Chao. Allora, Malik Chao il peggiore, senza dubbio, in campo il peggiore. Ho dato 3,5. Vi dico, ragazzi, sono stato buono in tutti i voti. 3,5. Il peggiore in campo è stato letteralmente bullizzato da Turam, come i bambini dell'elementare o le medie, quando c'è il bullo, che ti bullizza. Ecco, lui è stato letteralmente bullizzato. Molle, senza grinta, senza rabbia, sembrava stesse giocando così una partita tra scappoli e ammogliati, la domenica mattina dopo la messa. una partita indecente da parte sua. Ternandez. Ternandez ha dato 5, ma semplicemente perché forse è quello che ci ha creduto un po' più di tutti. È andato anche vicinissimo al gol. La palla è uscita su un bel passaggio di Giroud. La palla è uscita di poco, bella incursione, però poco, poco. Poi, vabbè, ha fatto anche il fallo dal quale è scaturito il calcio di rigore. Però diciamo che lì ormai, insomma, la partita si era messa un po' male, per cui anche un po' di frustrazione. e quindi, vabbè, insomma, 5, mi sembra anche un voto assolutamente generoso per Ternandez. L'off to cheek. L'off to cheek 5+, diciamo che non è il solito off to cheek, però in alcune occasioni ha dato l'impressione di poter fare la differenza al centrocampo, perché ha un paio di volte saltato bene l'uomo, solo che poi, una volta arrivato vicino all'area avversaria, diciamo che era un po' confuso, non sapeva bene cosa fare e spesso passava la palla indietro e quindi l'azione doveva ripartire e niente. Quindi non scaturiva in niente queste azioni che pur partivano bellamente, ma poi si spegnevano in un niente di fatto. Comunque 5 e più, perché comunque è un giocatore che ha lottato in centro al campo contro i centrocampisti dell'Inter che facevano una grande densità ed era difficile svettare. Passiamo a Krunic, voto 4. Non lo so, assolutamente insipido, non saprei come giudicarlo, non andava bene né a difendere, non andava bene né a impostare, non ha recuperato palle, non vagava in mezzo al campo come un extraterrestre, non lo so, una prestazione che non so neanche valutare, cioè la valuto 4 perché sostanzialmente è stato in campo tantissimo tempo, quasi fino alla fine, ma però non si dice, ma fa niente, non ha inciso, praticamente poteva anche stare in panchina, era la stessa cosa, voto 4. Renders 4.5 Renders è uno degli acquisti migliori a mio avviso, adesso non è che lo sto bocciando, però ci aveva abituato a dei bei possessi palle, a delle belle sgruppate in centro al campo con degli smistamenti di palle precise e efficaci, questa volta non l'ha fatto, questa volta è stato sempre, forse per merito del centrocampo dell'Inter, è stato bloccato, non è riuscito a uscire fuori, quindi insomma 4.5 Pulisic 5, poco brillante, poco brillante, poco servito direi, ha fatto anche lui il classico rientro alla, come dire, non so, forse alla Selemme Kers, ecco, forse qualcosa del genere, prendeva palla, non ha mai saltato l'uomo, poi si accentrava, e alla fine doveva sbattere contro la difesa dell'Inter e si rifugiava in un retropassaggio, per cui anche lui, peccato perché dal mio pupillo mi aspettavo qualcosa di più, per cui un vero peccato, 5 per lui, non una insufficienza grave, ma ovviamente personalmente mi aspetto tantissimo da lui, in questa partita non è uscito nulla di buono. Allora Giroud, Giroud ho dato 6, meno meno, uno dei voti migliori, io credo che si sia impegnato tantissimo, ha fatto un bellissimo assist nel gol di Leao, e poi ha fatto anche un bellissimo passaggio nel quasi gol di Teo Hernandez, per cui a parte questi due episodi che sono stati molto belli, ha cercato sempre come suo solito fare, tenere sulla squadra, e cercare di spizzarla in maniera giusta, anche se è stato poco preciso, non come al solito, non c'è stata la sua solita precisione negli appoggi, e quindi vabbè, 6 meno meno, vi ripeto, sono stato veramente buono nei voti. Questa cosa, ecco, su Giroud mi fa pensare, che forse il modulo 433, non vada poi tanto bene a mio avviso, poi fatemi sempre sapere voi cosa ne pensate, per questo Milan, io sarei più propenso a usare sempre il 4231, per avere Pulisic centrale, e Giroud la da solo davanti, secondo me saremmo molto più efficaci. Poi alla fine si dice che giochiamo col 433, ma io poi in difesa a volte vedevo, mi sembrava che ci fosse la difesa a 3, quindi, boh, non lo so, non lo so, è vero che a Pioli piace spaziare, piace un po' mischiare le carte in tavola, però mi sembra che stiamo un po' esagerando anche in questo, sarebbe meglio essere un po' più concreti, un po' più, anche rigidi nelle posizioni in campo, e quindi, e quindi sì, preferirei forse tornare al vecchio modulo, che tante soddisfazioni ci ha dato. Leao, 6, meno meno, allora al primo tempo praticamente ha fatto cagare, nel secondo si è un po' svegliato, poi ha fatto un bellissimo gol, su questo bellissimo assist di Giroud, ha fatto questo bellissimo gol, ho dato 6 meno meno, perché io le voglio bene, però dovrebbe giocare anche il primo tempo, Leao, poi una cosa che io non riesco a capire, il suo modo di fare i cross, veramente questi cross a palombella, che non servono a niente, i cross vanno fatti tesi, vanno indirizzati a un giocatore specifico, buttarli la palla in aria, e sperare che cada sulla testa di Giroud, insomma, non credo che vada bene, dovrebbe studiarsi un po' di più, la tecnica dei cross, comunque vabbè, 6 meno meno ragazzi, sono stato veramente, me ne rendo conto adesso che sto facendo le pazielle, sono stato anche, fin troppo, fin troppo buono, poi magari fatemi sapere, tutti i vostri voti, che avreste dato voi, io sarò veramente contento di leggerli, per capire, insomma, se ho ancora i fumi della frustrazione nella testa, o sono stati i voti dati a ragion veduta, ecco, veniamo al nostro caro e vecchio Pioli, allora, al nostro caro e vecchio Pioli, io ho dato 3, ragazzi, ho dato 3, il voto peggiore a Pioli, perché sinceramente, ci ha fatto passare alla storia, ovviamente, ecco, volevo dire una cosa, volevo fare una premessa su Pioli, io non sono ancora per il Pioli out, chiariamo bene, io Pioli lo confermerei, lo confermo, però, in questa partita, ragazzi, anche perché siamo partiti bene, abbiamo fatto 3 vittorie di fila, quindi, non sono per il Pioli out, non ancora, però le critiche, quando ci vogliono, ci vogliono, in questa partita, lui merita un bel 3, perché, non ha saputo, non ha saputo capire, capire questa partita, non ha saputo interpretarla, abbiamo veramente fatto schifo, a parte i primi 4 minuti, ovviamente, dove l'Inter non ha toccato palla, abbiamo fatto schifo tutta la partita, un possesso palla del 73, 74%, un possesso palla sterile, praticamente, l'Inter ha fatto come il pugile, che tiene sempre la guardia alta, e appena ha l'occasione, ci rifila una papigna, che ci stende per terra, quindi noi continuare ad attaccare, attaccare però, diciamo, fino alla tre quarti, perché poi in aria, non è che siamo arrivati spesso, anzi, quelle volte che siamo arrivati, che sembrava, potessimo trovare, quello spunto per fare gol, alla fine, il giocatore in possesso di palla, passava indietro, perché non sapeva più, cosa fare, quindi, anche gestire un po' di più, da parte di Piore, il movimento senza palla, è vero che magari, questo è un po' più colpa dei giocatori, perché senza palla, eravamo statici, non ci facevamo vedere, tant'è vero che, Mignan, a volte stava molto col pallone, fra i piedi, perché non sapeva, quale poteva, essere il passaggio giusto, quindi, gioco senza palla, veramente assente, però, io da Pioli, mi aspetto di più, mi aspetto magari, anche di infondere, a livello di testa, un po' più di grinta, perché ecco, è mancata la grinta in questa partita, non c'era la grinta, che invece aveva l'Inter, non c'era la grinta, che ci dovrebbe essere, in un derby, in una partita molto importante, in una stracittadina, forse qui si è visto anche, il fatto di aver cambiato molto, cosa può succedere, troppi giocatori nuovi, l'amalgama non c'è ancora, anche se sembrava di sì, nelle prime tre partite, ma di fatto, non c'è ancora, il peccato viene, il peccato mi viene da dire, che è perché, lo scopriamo sempre, contro, contro l'Inter, quindi, questa è una cosa molto, molto negativa, ragazzi, va bene, le Zed Pagelle, finiscono così, Zed Pagelle, amarissime, veramente amare, spero di non doverne fare, più di Pagelle del genere, perché, veramente, avviliscono, in una maniera, pazzesca, e, va bene, continuate a iscrivervi al canale, lasciate un like, di sostegno, e, ci sentiamo, sicuramente, per qualche altro video, se no, ci vediamo, per la live, di, Milan, Newcastle, martedì, per oggi è tutto, ragazzi, sempre, forza Milan, e, alla prossima.